Siamo davanti al palco di Erode con Tonino Ciuferri e Franco Ciuferri. Abbiamo Tonino Ciuferri che può raccontare 30 anni di Erode ma quasi mezzo secolo di turba. Ci racconti i tuoi personaggi? I personaggi hanno cominciato da qui, facendo il paggetto proprio di Erode. Poi sono passato a far l'Apostolo perché gli Apostoli dovevano essere abbastanza giovani per quella volta. Poi per tre anni ho fatto anche la figura di Giuda e quello era veramente pericoloso. Mi ricordo che emettevo certi urlacci da laggiù in piazza e la gente rideva e io quando uscivo, che finivo, invece qua dietro piangevo come in vitello, si dice così, per l'emozione, per il ruolo che rappresentava questo personaggio. Poi sono andato fuori per lavoro e ho ritornato, ho fatto il popolo insieme a tutti quanti. Poi mi hanno detto che serviva far la parte di Re Erode e ci ho provato e per quasi una trentina d'anni ho fatto. E l'anno scorso ho deciso di motivarlo perché è giusto lasciare il posto a giovani e che si impegnano, che facciano bene perché la turba è una cosa grossa, veramente grossa e per chi si impegna soprattutto dietro perché c'è gente che veramente dà l'anima affinché questa manifestazione possa essere sempre più bella e vivibile da parte di tutti. Che tipo di personaggio è Erode? Erode è un personaggio un po' atipico perché vuol contare qualcosa ma in realtà non conta nulla perché c'era Pilato quindi con i romani non contava niente. È molto suscettibile perché è curioso di sapere ma nel frattempo ha paura e quindi è un personaggio che va soprattutto interpretato. Non è tanto difficile le parole che si dicono perché sono poche la memoria da utilizzare ma renderlo ironico nel frattempo curioso e titubante. Poi alla fine se ne lava le mani perché non vede l'ora che dice che l'ha mandato Pilato per togliersi questa castagna dal fuoco che veramente scottava molto. Per chiudere per un cantianese doc che cos'è la turba? La turba adesso come vedete qui è tutto recintato. Una volta noi la vivevamo la turba perché ci giocavamo qui da ragazzini ed era bellissimo quindi siamo nati proprio con questa... Sopra questi palchi? Sopra questi palchi siamo nati quindi da bambini giocavamo fino ad arrivare quasi all'età di 70 anni e eccoci qua insomma. Turba è come per uno gubino i ciri. Dire la turba per noi è prenderci il cuore insomma. È una tradizione vecchia, 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 vecchia che dobbiamo cercare di valorizzarla e mantenerla sempre ad altissimi livelli. Ecco a tal proposito anche un messaggio ai giovani no? Ecco che si impegnano il più possibile perché come ho detto detto prima dietro la turba c'è un sacco di gente e uno di queste persone qua che veramente danno l'anima affinché questa manifestazione possa riuscire bene. Al di là dei figuranti come i popolani sono dietro c'è un grandissimo lavoro. Veramente dà una grandissima mano a questo. Da Tonino Ciuferri a Franco Ciuferri anche per Franco una miriade di turba. Siamo parenti. Non sono parenti ma gli accomuna ormai una parentesi lunghissima di turba. Franco che personaggio hai fatto fin da bambino? Io ho fatto dunque sono 60 anni di turba io ho 60 anni di turba alle spalle perché ho iniziato dal popolano poi ho fatto il soldato dei grandi sacerdoti poi ho fatto sono entrato nel club degli apostoli. Prima ho fatto San Giovanni con una gran parrucca bionda a quei tempi quasi ridicola però i tempi erano quelli che erano. Poi ho fatto l'appostolo normale diciamo uno dei tanti e poi per dieci anni ho fatto anche dietro il lavoro clamoroso. In particolare di che cosa si tratta? Io faccio parte del consiglio della turba e poi mi dedico qui all'aiuto e al montaggio dei palchi. insomma via. Infatti adesso stiamo rifacendo come vedete qui manca una scala per esempio che la stiamo facendo adesso. Tutti i lavori che bisogna fare per mantenere questa famosa turba. C'è qualche ricordo, qualche aneddoto, qualche curiosità di questi 60 anni di turba? Beh aneddoti, il ricordo è quello di quanto facevo San Giovanni perché come ho detto prima c'avevo una gran parrucca bionda e purtroppo un signore per strada a quei tempi mi disse quanto vuoi? E con questo ecco ci congediamo e buona turba a tutti!